Da nove anni l'estate a Retina offre il ricco cartellone di eventi musicali organizzati da Oberlin in Italy, il conservatorio che dalla cittadina statunitense dell'Ohio ha fondato una sede anche ad Arezzo. A partire dal 24 luglio andrà in scena Arezzo Opera Festival con appuntamenti nelle maggiori piazze della città, da Piazza Grande a Piazza della Badia fino a Piazza Sant'Agostino e per la prima volta anche al Teatro Petrarca. In queste location i musicisti porteranno le opere, tra gli altri, di Mozart, Monteverdi e Puccini. Il primo è Così fanno tutti, a Piazza Grande. Questo è fuori, è un meraviglioso spettacolo. Dopo questo andiamo nel teatro e facciamo l'incoronazione di Popeia. Questo è il 27-29 luglio e Luca Provenzale viene come direttore e lui porta tutti i musicisti per questo. Più o meno 40 musicisti a Retina in Toscana. È molto importante lavorare insieme, imparare insieme per gli studenti, fare le recite nelle piazze con le gente fuori nella sera, anche insieme con i musicisti italiani. È una cosa bellissima e unica. Con l'auspicio che la collaborazione con Oberlin possa ulteriormente consolidarsi, l'amministrazione comunale sottolinea l'importante novità di questa edizione, la possibilità di esibirsi nel Teatro Petrarca con il suo rinnovato golfo mistico. Questa sarà l'inaugurazione praticamente del golfo mistico, del rinnovato teatro. Per loro è importante provare ad esibirsi in un teatro di quelle dimensioni, ce lo spiegava prima la loro sovrintendente, perché di fatto è delle dimensioni giuste dal punto di vista della ricettività. Io credo che si possa pensare serenamente a un futuro ancora più coinvolgente per quello che li riguarda. Io ho aperto anche una prospettiva diciamo invernale. Loro vengono tradizionalmente tra luglio e agosto. Beh, vediamo se non fosse il caso di aprire una finestra magari di un paio di settimane nel periodo natalizio.